E' molto più bello, certo! Ciao Paolo! Benvenuto! Posso darti un bacio? Faccio portafortuna. Ma non perché non lo vuole mai. Paolo, ti bacio anch'io. Non bacio a me, bacio a me. Senti Paolo, allora tu lo sai, 100 secondi. S'è emozionato? E' abbastanza. Beh, è giusto, è bello. Hai 10 secondi per presentarti. Vai! Sono Paolo Fattorini, questa è Radio Fattorini che trasmette il singolo Voglio Scegliere, è l'unica radio. Ma bravo! Paolo Fattorini, voglio scegliere! Senza riflettere, sussurravo. Quando c'amavamo come un cuore. E vodevo non andare via. Ora sei qui con me. L'importante è che io possa scegliere. Oh 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 Un bel fiore che non abbia odore per sentirne dentro il sapore Di giorni in cui non eri qui con me, l'importante è che io possa scegliere Voglio scegliere Voglio scegliere Voglio scegliere Voglio scegliere Io voglio scegliere Voglio scegliere Voglio scegliere Voglio scegliere Voglio scegliere Io voglio scegliere Grazie a tutti.